buongiorno ragazzi adesso voi ragazzi vi spiegate dove siamo finiti in tutto questo tempo adesso vedete anche che il video è abbastanza corto rispetto agli altri video che faccio di gameplay scensioni tecnica tecnologia e tutto il resto ma porca miseriaccia anche la stia se ne mette ragazzi mi è già successo una volta di registrare a vuoto ovvero erano 30 minuti di registrazione 26 minuti di registrazione mi sento tutto bene se non mi ricordo male anzi che ve lo avevo racconto anche sopra instagram e giustamente che cosa succede mi deve di succedere un'altra volta essere non è nel contento del mondo sono nel contento android si perché io registro tutti i miei video con android questo qua è un asus zenphone 4 pro ed è l'utilizzo sempre per registrare i miei video ah sì perché ancora sono sono povero sono non sono un tirchio perché non ho questa questa cosa qua economica per comprarmi una fotocamera per adesso e quindi registro da smartphone che ci vado a fare ragazzi ma almeno funzionasse bene maledizione pure ieri buttata la registrazione mi sono anche cazzo abbastanza sopra islam sono era un furiato ieri su islam perché maledizione non mi può capitare una cosa un videomaker adesso io sì ho pochi iscritti e va bene va benissimo ma non mi puoi rovinare una registrazione vedete vedete che qua porca miseria c'è qua a sinistra vedete maledizione io non so più che fare con android però devo usarlo per forza perché altrimenti non riesco a fare video tutti gli telefoni che ho sono tutti android non so se con ios questa cosa qua funziona l'altra volta bellissimo quando diceva errore di sistema tua sorella errore di sistema niente ragazzi ecco perché non riesco a fare video ieri ho provato appunto a farlo questo video e si è corrotto il file si è toccato alle mollette ma chi se ne frega niente questo voglio dirvi adesso io in questi giorni proverò a rifare questo video che avevo volevo come portare questo gioco nuovo che volevo portare e vediamo un po' di novi dei problemi questo qua lo carico subito questo video aggiornamento sarà anche poco edit sarà subito facile da montare rispetto agli gameplay che ci metto parecchie ore invece questo qua faccio poi edito musica e poi il titolo detto questo ragazzi non dico che vi sia piaciuto sto video comunque era questa la notizia del giorno niente ragazzi ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale